Malamovida, serate danzanti non autorizzate, sanzioni e deferimenti dopo i controlli di polizia. Malamovida, serate non autorizzate, mirati e serrati controlli della polizia di Stato nei locali di svago e intrattenimento della Movida Seracusana che hanno visto impegnati gli agenti della divisione di polizia amministrativa della Questura. L'obiettivo delle verifiche, volute dal questore Benedetto Sanna, è prevenire episodi che possono creare rischi per la sicurezza degli avventori e dei locali pubblici. L'attività della Polizia di Stato, volto alla verifica dell'agibilità dei locali controllati, delle dovute autorizzazioni e dell'impiego di operatori addetti alla sicurezza, cosiddetti buttafuori, che devono necessariamente essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sono condizioni che garantiscono serenità e sicurezza ai numerosi turisti italiani e stranieri presenti nel capoluogo del Teseo. Durante gli ultimi controlli è stato denunciato il titolare di un noto esercizio di somministrazione di elementi a bevande nei pressi di Ortigia per il mancato rispetto dell'ordinanza sindacale del Comune che vieta in tutti i locali pubblici e diversi dalle discoteche di organizzare intrattenimenti musicali oltre le ore 1.30. Il titolare di uno stabilimento balneare incontrato a Plemmidi è stato parimenti denunciato per aver trasformato il proprio locale in una discoteca senza le necessarie autorizzazioni. Nello corso è stato anche riscontrato dai poliziotti l'impiego in maniera non conforme di personale detti ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo ed è stata elevata una sanzione economica.